Questo video riguarda i migliori 3 mini climatizzatore portatile. Il vincitore della qualità è il carcore condizionatore. Non solo condizionatori personali, ma anche umidificatore barra ventola barra luce notturna. Il radiatore utilizza la tecnologia nano spray a ultrasuoni per aumentare l'umidità nell'aria ed evitare che la pelle si secchi. Aggiungere cubetti di ghiaccio o menta nell'acqua può portare aria fresca. Il vento del condizionatore portatile è più vicino al vento naturale e le tre velocità del vento soddisfano le vostre diverse esigenze. Questo condizionatore portatile può essere regolato con due timer. È possibile regolare il tempo necessario in base alle proprie esigenze, il che è sicuro e a risparmio energetico. Il refrigeratore d'aria supporta diverse modalità di alimentazione USB, ha un basso consumo energetico. Il condizionatore portatile dispone di un serbatoio dell'acqua da 450 ml con grande capacità. Il serbatoio dell'acqua può essere riempito con acqua e funziona per 2 a 7 ore ininterrottamente. Il design Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il air condizionatore. Condizionatore d'aria multifunzionale aggiornato 2022 che combina ventola, condizionatore d'aria e umidificatore, luce notturna e aromaterapia. Questo condizionatore d'aria mobile è alimentato da una batteria da 2200 ma per garantire che il tempo di lavoro senza fili duri 2 a 4 ore dopo una carica completa. Questa ventola del dispositivo di raffreddamento dell'aria viene caricata, basta collegare il cavo di ricarica di tipo CL adattatore che è maggiore o uguale a 2A, supporto con power bank, laptop, caricabatteria per auto, che è a basso consumo energetico e consente di risparmiare denaro. Il nostro condizionatore d'aria portatile air viene fornito con dischi di fragranza da uno pezzo.Aggiungi dischetti di fragranza nella scatola delle pillole aromatiche per miscele appositamente curate per aiutarti a creare l'atmosfera perfetta per te stesso. La direzione del vento può essere regolata di 30 gradi su e giù per soddisfare le esigenze di aree più grandi. Il vincitore del premio è il Begleri condizionatore. Aggiungi acquaghiaccio direttamente per il raffreddamento evaporativo da utilizzare come mini condizionatore d'aria e goditi l'aria fresca al di sotto di 15 grado Celsius, 20 grado Celsius in 3 secondi. Può essere utilizzato anche come ventilatore da tavolo, umidificatori e luci notturne. Batteria integrata da 4000 ma, 4 ore di carica completa, può funzionare 2 a 6 ore. Lo rende comodo da usare nelle attività all'aperto, anche per camera da letto, casa, ufficio. Il rumore è minore o uguale a 50 dB. Il lavoro e il sonno non saranno disturbati. Tempi 2H barra 4H. Non preoccuparti del consumo energetico. Il refrigeratore d'aria può essere controllato con il telecomando mentre si è seduti sdraiati. Il raggio di controllo è entro 3 metri. Quando il serbatoio dell'acqua esaurisce l'acqua, il display a LCD mostrerà un messaggio di mancanza d'acqua e si trasformerà in una normale ventola. Modalità spray singolo doppio. Non preoccuparti della nebbia che bagna la scrivania, i vestiti, le lenzuola. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.